Il mister ha parlato tanto durante l'incontro di quella squadra con la disciplina con la quale lavoravano, si allenavano. Guardando ad oggi, forse questa disciplina non è a quei livelli, diciamo, per il minimo di oggi. Sì, è una disciplina nel senso di rispetto. È una disciplina perché tutti quanti dovevano rispettare gli altri, come ci ha detto, non fare il ritardo, non fare i capricci. Quindi no, se vuoi creare il gruppo devi creare uno spirito di squadra che si trasforma anche in vittoria. Depende molto dalle qualità dei giocatori, ma come minimo trovi un gruppo che lotta fino alla fine per raggiungere il risultato. È una delle basi su cui ho sempre fondato il mio lavoro, il rispetto. Serve anche avere un leader in campo? Secondo lei chi può essere un gesto? No, io ho avuto la fortuna di avere sempre dei leader in campo, perché se giochi a San Siro in maniera particolare a 10 metri non ti sentono, per cui se sia qualcuno che faccia rispettare in campo quello che è stato preparato durante la settimana. E poi ci sono i leader da spogliatoio, magari uno che non pensa, che però quando parla decide le cose talmente sensate che viene ascoltato. E dal Milan di oggi c'è un nome che può prendere questo ruolo? Non conosco il Milan di oggi, io leggo sulla gazzetta, leggo su altri, guardo per televisione, guardo le partite, in base a questo mi esprimo, come sapete, qualche articolo. Mi spero, il Real di oggi anche lo vede, qualche partita, come è iniziata questa stagione, tutti Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tutti insieme, cosa ne pensi? Io credo che necessita un po' di tempo a Carlo, Carlo sape molto, come sempre quando arriva un star che non capisce che può lavorare come gli altri, perché nel Madrid non c'è un star, c'è molti star, per questo io credo che in poco tempo Carlo arriverà a trovare l'equilibrio necessario per arrivare alla victoria. Ha conosciuto l'Ibraimovic giocatore, cosa ne pensa dell'Ibraimovic dirigente? Beh, io credo che Ibra ha il potenziale per fare anche un dirigente, datevi tempo di capire.